Sui social e sui blog vi è una corsa al selfie di immagini di persone dipendenti e persone comuni che immortalano il momento della somministrazione del vaccino contro il covid. La domanda che sorge spontanea nei vari commenti è se sindacalisti, mogli di dipendenti, estetiste hanno il diritto di precedenza rispetto a ultraottantenni e pazienti con pluri, morbidità e medici ed infermieri esposti maggiormente al rischio di contrarre l'infezione mentre prestano assistenza. Chi elude la fila e le priorità e si mostra sui social non sta dimostrando di essere un eroe, è semplicemente un vigliacco. Questa la comunicazione di Rolando Scotillo, responsabile della fisica e continua, è giusto che sulla vicenda si vada a fondo e che si individuino se esistenti, le responsabilità. Chi come me, pur essendo sanitario, ha rinunciato temporaneamente al vaccino in favore di persone fragili e di operatori sanitari maggiormente esposti, ha diritto di sapere a chi sono state somministrate le proprie dosi. Che l'ASL Salerno risponda al più presto.